Cazzo vai qua Cazzo vai qua, vai via Cazzo la ferro Dove vai che anneghi? Eh Ci sei te e la vacca nel video Ce l'ho, bella No Non so, non fa più niente Sì, bella però Bella, bella Cioè, bella, bella Una quarantella Una quarantella Bel maschione Tipo ieri Vabbè, dai Lo squid minno inizia ad avere un suo significato Ok Ok Ma è già da così si può vedere Che è bellissimo E' 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 Vole E' Rilasso E' E' Questa è che Ma quando l'ho presa Vole più grossa Poi a metà basta Vediamo Poi a metà basta no no all'inizio sembrava ora sta facendo esattamente come prima ma vedi che non fanno niente ecco adesso ha fatto qualcosa ecco i pesci non vedi che non adesso tira adesso è anche bella o è presa fuori no è piccola è presa fuori guarda no secondo me neanche la vedi dove è presa ma ti danno delle belle stecche così e sopra i 30 anche questa qui direi decisamente sopra i 30 bravo squid mino bravo sono contento se e tira ma è risotto eri sullo scalino lì si oppure ti ha seguito da là ce l'ho sempre sullo scalino no bella no questa vola diretta nel prato si ma vola guarda adesso la lancio mucca no questa ce l'ha in bocca putt'a minchia questa ancora va vicino va vicino i 40 tutta in bocca ce l'ha tutta in bocca no no ti devo fare no brava ma sono tutte così anche quella di ieri la pina poverino la pina è andata un po' questa è femmina vabbè su questo squid mino mi sa che mi tocca rubinarne un altro questo è combinato lui è arrivato inchiodato al culo di Vinales lo siete visto? si è attaccato Petruccio e Petruccio ne ha passato e lui ha smesso di andare a me ha proprio dato l'idea che avesse paura vai Lorenzo ce l'ho bello vedi che mangiano lo stesso fagliela vedere hai i cefali qua hai i cefali lì su che pescano da un'ora dei miei pesci 36 sai che c'è dove si è presa? nell'occhio adesso no rimbalzeranno il prato anche questo sei liberata da sola ma che brava ho fatto bene andare a salvarci la piazza no ma molto di più 35 se quella di prima era questa fa 38 anche sai sto facendo il video da qui avevi un occhio una volta pesce ma che ti arriva lì si 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 giro si si lo odio bello questo invece mi piace più da questo pesce 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 pes